Borghi, Daga, Chimienti, Esisto, Piazzoni, è in blocco la postazione onorevole Piazzoni, tolga quello che c'è dentro semmai, riprovi, sta arrivando il tecnico. Va bene, allora intanto aspettiamo, l'onorevole Piazzoni rinuncia a questo voto e chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti. Do la parola al relatore Amendola per i pareri. Gentile Presidente, tutti gli emendamenti all'articolo 3 e il parere contrario. Va bene, Governo. Grazie. Dovrebbe alzarsi. Grazie, onorevole Sottosegretario. Allora, emendamento 3.1 Sibilia, se nessuno chiede di intervenire. Spadoni, prego, onorevole Spadoni. Grazie, Presidente. Con questo emendamento chiediamo che le spese di missioni, sempre riguardanti appunto la copertura finanziaria, che le spese di missioni vengano rendicontate a piedi lista. Crediamo, è un emendamento che abbiamo anche richiesto in Commissione Affari Esteri Comunitari, crediamo che appunto le spese di missioni, così come tutte le spese riguardanti le missioni internazionali, debbano essere opportunamente rendicontate. è una battaglia che il Movimento 5 Stelle continua a fare proprio per una questione di trasparenza.